e adesso andiamo a vedere quanto sono sfigati guardate questo vecchietto qua che sta adesso ci spostiamo allora chiudiamo le porte cazzo si alzano ma sono imbeciliti la bambina la bambina mi ma cosa vuoi ma entriamo allora o che porco zitti allora ok andiamo avanti porco zitti e tiriamo su andiamo ok vedete siamo qua a vedere sto è sempre per wii wii questo gioco però l'hanno messo ieri e oggi ve lo sto facendo vedere quanto sono handicappati quelli dentro perché il gioco è bellissimo ok va bene per quello che devi imparare però quelli dentro sono imbeciliti proprio proprio non capiscono niente niente di capiscono allora siamo già la fermata mi indietro allora allora ok andiamo ok andiamo facciamo entrare la gente ok guardate come sono sfigati mi indietro guardate mi indietro quello li sta venendo questi qua adesso guardate cosa fanno stanno in piedi le passano anche in mezzo figa in mezzo sono dei fantasmi adesso guarderanno l'orario perché saranno tonti aspettate allora non si siedono guardate come sono tonti tutti quanti i piedi e poi adesso si siedono quello la ancora i piedi quello con la maglietta ok adesso si è seduto chiudiamo le porte andiamo a vedere quanto sono tonti tutti ok e ritorniamo l'ambulist oh non parlarmi così ok tiriamo prima su questo e andiamo avanti ok va bene ci vediamo al prossimo video papà 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 papà